e perché giallo tavacchi è il più bomber di tutti perché c'è una sola prova ma ci sono tante allora a me in genere non fanno ridere queste stonzate però generalmente le dita arrivano così questo invece mio arriva così bello piegato vada poverina non ti reggi in piedi hai fatti i bagordi ieri sera oh cazzo no aspetta ne ripartiamo dopo aia lexi che stavi giocando con color vediamo una clip non di color ma presa randomicamente vai con la clip vai con la clip succede solo a me oppure la clip non sta partendo dalla regia mi dicono che dante devi menar quel cazzo di nucleo dei puntà porca puttana bene caro bene tu come stai vediamo la clip per un certo tempo sei stato con me cosa ebbene sì lo confesso cosa intendi e sapessi non vorrei non vorrei essere troppo esplicito caro però non stavo non c'ero arrivato che andasse a parare lì il tono in cui l'ha detto mi ha fatto ammazzare l'irisale aia oddio no scusate ecco l'amministratore amministratore venga venga che ci devo dire due paroline una piccola devo presentare formale le reclamo et lamentela per la sua indegna amministrazione dico de sto condominio nessun condomino è d'accordo con lei e con le sue scelte solo gli altri amministratori di condominio che lei ha voluto portare dalla sua parte subdolamente e tramite il reciproco scambio di favori questo si chiama voto di scambio amministratore lo sa è un reato ed è punibile per legge oh ma immagino che lei già lo sappia perché i suoi zozzi intrallassi li ha fatti in concomitanza e con l'aiuto anche degli altri condomini ma tutto questo non è sfuggito a un occhio attento quale quello dello slayer e presto verrete puniti tipo adesso ma cazzo ho detto fino a molto acqua santa è molto gg oddio le palle non ha nessun senso quella battuta fa solo ridere per come lo dice si 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 cazzo no io respiro si ci provo no senti io dopo io dopo faccio la clip pure mia di questa cosa che che rida questa clip poi non lo so quando qualcuno mi farà uno shout out sui vostri canali guys faremo la clip della clip della clip porco giuda adesso non fare quelle palle lì per favore ecco queste sì queste sì sgranchisciti sgranchisci le chiappe lol no eh sì 108 108 li sentono lol come fate ok senta io io vorrei solo passare gli mortacci tu e degli non te lo dice perché questo è danno nullo più in vaso pure nooo si buonanotte ma andate a fare in culo c'è mancavi solo dei guarda c'è mancavi solo dei mezzo al cazzo more quadro è perfetto no cioè no pom 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 pollom pollom combina guai tu nell'olimpo felice tu stai la beniamina di tutti gli dei sei tu pollom pollom combina guai da su racconta quello che tu sai tutto a posto si abbastanza abbastanza caro abbastanza ah scusate me li metto a posto il braccialetto vedete le texture della seconda arena di devil make cry 2 vedete è un po' insomma le texture molto curate qui sì le secret room esatto vabbè però queste sono fighe sì questo è figo perché è un libro animato ma porco giro ecco questa terza arena di devil make cry 2 vedete mi hanno badato a spese per la schifezza che sta veramente cavalcando un cazzo di razzo e attivarla di nuovo infine sulla sferografia ci sono dei blocchi che impediscono il passaggio spiegazioni al riguardo saranno date al momento della loro rimozione ok cerchiamo di tornare seri ma chi è sì ma chi era sta amico tuo dante dovresti mirare al piccione dante vai a fare il culo il secondo boss del gioco da parecchio filo da tuercere specialmente se non voglio usare lo scudo e specialmente se non voglio aumentare quella stat che aumenta la finestra di invulnerabilità con il dodge 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 io non lo so se riesco a riprendermi spero di non dover interrompere la live perché per la ritarola che non passa più che sembra ma non è e serve a darti l'allegria se lo annusi o l'ore però mi dissocio Angelus Lord delle Highlands NGL 108 Angelus Lord delle Highlands NGL 108 Game è eterno tra retro gaming il suo nome risuona un'epica cantiamo a la bulla a la bulla